Vi racconto le mie giornate, tipo, cosa si sta facendo in questo momento? Sì, esatto, dai. Allora, noi ci si sveglia la mattina alle 5, si inizia a preparare perché ci sono le persone anziane, dove magari hanno le figlie, che sono in quarantena, che sono un po' di casi anche qui nella nostra città, e poi tutti siamo rinchiuti in casa, c'è l'Italia intera. E praticamente noi li portiamo la stessa a domicilio, loro ci chiamano e noi portiamo, diciamo, io e il mio marito, io preparo le stesse e lui le consegna. Oh, ma che bravi. E non solo, noi li portiamo tutto, anche quelle non vendo io, medicine, giornale, tutto, proprio a saponi che io non vendo, sul gelato io non vendo, la carne io non vendo, li portiamo tutto, perciò andiamo a fare le figlie anche da altri negozi in modo che non gli manchi assolutamente niente. Facciamo ancora tanti complimenti e ti salutiamo con un grosso abbraccio, un caloroso abbraccio. Grazie, 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 grazie. Nella speranza che tutto questo passerà presto e che poi possiamo aprire le porte dei negozi a tutti. Però ti tengo, posso dirti o aggiungi la cosa? Sì, vai. Con questo abbiamo trovato anche un calore umano, eh. Assolutamente, assolutamente. La lezione, la lezione c'è. Abbiamo, è giusto, lo volevo precisare questa volta. Sì, sì. Perché con bar chiusi c'è il palazzo accanto, si porta il caffè, si fanno le bioste, si allungano di tutto, eh. Certo, certo, sì, sì, assolutamente. La lezione... E ti regalano un sacco di sorrisi giornaliere, tanta speranza. Certo, certo. La lezione c'è e ci servirà, assolutamente. Per l'umanità è fondamentale. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ancora un abbraccio, Letizia. Ciao, arrivederci. Ciao, Letizia. Ciao.